Una lezione prima... Azione! Allora, siamo un gruppo di lavoratori dello spettacolo, ci proponiamo attraverso l'uso del nostro specifico, il comportamento degli autori, i registi, i tecnici, di ricostruire le tre versioni ufficiali, cioè quelle appallate dalla magistratura, sul suicidio, il presunto suicidio dell'anarchico Pinelli. Quindi, questo ufficio rappresenta l'ufficio del dottor Calabresi, il dottor Calabresi, commissario aggiunto dell'ufficio politico della Questura di Milano, collaboratore dell'organo ufficiale socialdemocratico La Giustizia, collaboratore a momento sera, è stato in America per alcuni mesi dove si dice abbia frequentato un corso speciale. Negli ambienti della sinistra milanese è noto come il commissario CIA. Le tre versioni che proponiamo, cioè quelle ufficiali, quelle appallate dalla magistratura, presuppongono che in quel momento Calabresi fosse assente dal suo ufficio. Erano invece presenti... Un tenente dei Carabinieri e tre sottufficiali della politica. Va bene, allora, tre sottufficiali della politica, un tenente dei Carabinieri, l'anarchico Pinelli. La polizia dice che il clima in quel momento nella stanza era tranquillissimo, in quanto Calabresi era uscito e praticamente c'era una pausa all'interrogatorio. Una pausa durante l'interrogatorio... Ciò prima una chiamata... Trova da tre giorni e tre notti. Tre giorni e tre notti. L'anarchico Pinelli aveva sentito qualcuno, parlato con qualcuno? La mattina dell'ultimo giorno aveva incontrato la madre, aveva parlato con lei, si era dimostrato tranquillo, sereno e sicuro di uscire dopo poco, in quanto nulla poteva emergere a suo carico. Bisogna sottolineare un aspetto del personaggio Pinelli, cioè il personaggio Pinelli era noto negli ambienti della politica milanese, perché da vent'anni, un personaggio notissimo, cioè in caso di tensioni sociali, di particolari tensioni, l'anarchico Pinelli era uno di quei personaggi che venivano prelevati, interrogati, quindi conosceva alla perfezione i trucchi del mestiere della squadra politica milanese. Questo rappresenta l'ufficio del dottor Calabresi. Sono le ore? È circa la mezzanotte del 15 dicembre del 1969. Mezzanotte 15 dicembre 1969. 15 dicembre a Milano. Le finestre sono socchiuse, per lasciar filtrare un po' d'aria, perché la stanza... Per farlo uscire. No, per farlo uscire, quindi bene. A pausa dell'intervento, accendiamo la sigaretta, si fumava tutti. Sott'ufficiale dei Carabinieri qua non si poteva stare, perché sarebbe stato troppo vicino alla finestra, nemmeno qua. Forse i funzionari erano qua. Eh sì, anche tu. Si sa anche che Pinelli, verso le 10 e mezzo di quella sera, ha telefonato alla moglie per chiedere di rintracciare un libretto ferroviario dal quale doveva emergere, appunto, una prova a suo favore, cioè un viaggio compiuto da Pinelli o meno, ha avvertito la moglie che avrebbe mandato in questurino a ritirare questo libretto, questo verso le 10 e mezzo della sera del 15 dicembre. Si, in quel momento gli agenti potevano stare parlando di Giaffarillo Orfe. Naturalmente nessuno di loro deve guardare Pinelli. Dicono che io, Anarchico Pinelli, mi sia alzato del canello di... Dicono che io, Anarchico Pinelli, con un balzo felino mi sia chiamato fuori dalla finestra. Ecco, il balzo felino dell'Anarchico Pinelli, balzo felino, parole testuali usate dal questore di Milano per descrivere il salto di Pinelli nel cortile. Seconda versione, Pinelli, terza. La seconda versione, data dalla polizia sul suicidio dell'Anarchico Pinelli, prevede una disposizione differente dei presenti nell'ufficio del dottor Calabresi, cioè qua non ci possiamo stare come nella prima versione dove non dovevamo né sentire né vedere l'Anarchico Pinelli e qui invece dobbiamo sentirlo e vederlo, certo, allora tu ritorna alla macchina da scrivere, io e te, due funzionari, due funzionari possono stare qui, tu addirittura puoi prendere il posto sulla segna dell'Anarchico Pinelli che... Dicono che io, l'Anarchico Pinelli, mi sia alzato per stirare e che lentamente mi sia diretto verso la finestra, come per prendere una boccata d'aria. Fermo! 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 Ma perché si è buttato? Perché si è buttato? Non era nemmeno iniziato, era qui per una conversazione. Stava tranquillo. Qualche mese fa il dottor Allegra gli aveva regalato un libro. Mille milioni di uomini. Questo era il titolo del libro. E perché si è buttato? Non ce l'abbiamo fatta. Non ce l'abbiamo fatta. Nonostante lo zero dei quattro funzionari, l'Anarchico Pinelli è riuscito a guadagnare il coltile. Terza versione. No, va bene. Prima. E siamo arrivati alla terza ed ultima versione data dalla polizia a proposito del suicidio dell'Anarchico Pinelli che... Io, Anarchico Pinelli, mi sono alzato per stirarmi. Mi sono diretto lentamente verso la finestra, come per prendere una boccata d'aria. Fermo! 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 Fermo, che fai? Mi è sfuggito per un pelo, mi è rimasta la scarpa in mano. Mi è sfuggito per un pelo, mi è rimasta la scarpa in mano al brigadiere Panessa. I quattro zeranti funzionari non ce l'hanno fatta e l'Anarchico Pinelli è riuscito a guadagnare il cortile. Il corpo dell'Anarchico Pinelli è stato trovato a tre metri dal muro, con tutte e due le scarpe ai piedi. La strage di Stato. Come è morto Giuseppe Pinelli? Perché è morto Giuseppe Pinelli? Polizie e magistrature parallele. A proposito della testimonianza di Benito Bianchi, macchinista teatrale. La spia del 22 marzo, il loro ruolo di Mario Merlino nell'inchiesta, chi è Paolo Pecorriello, chi è Bruno Giorgi, chi è Giorgio Chiesa, chi è Serafino di Luia, chi è Giancarlo Cartocci, chi è Antonio Sottosanti, fascisti italiani e greci. I fermati venivano interrogati sul davanzare della finestra? La morte accidentale di Pinelli. Perché è l'esito dubitare che Pinelli si sia ucciso? Interrogano dopo tre mesi il medico che soccorse per primo Pinelli morente. Abbiamo ricostruito, minuto per minuto, le ultime ore di vita di Giuseppe Pinelli. Queste le celebri parole del questore di Milano, venti minuti dopo la tragedia durante una conferenza stampa. Pinelli era fortemente indiziato, per me il suo gesto è un'autoaccusa. Vi giuro, non l'abbiamo ucciso noi, quando saprete le prove che avevamo. Queste prove restano almeno finora un parto della fervida fantasia del dottor Guida. La letta dei carabinieri Lograno, uno dei quattro inquisitori, è stato promosso capitano. Umanità Nova. Perché l'opinione pubblica sappia? Lettere dalle carceri italiane. Questa lettera è di Paolo Braschi, un anarchico, che scrive, Qui si è parlato spesso di finestre. Addirittura si è soprannominato con tal vocabolo il commendatore Calabresi. E devo dire, tale nome gli calza pennello. Ricordo che quando fu interrogato, negli stessi uffici dove ha trovato la morte Pinelli, questo cosiddetto commendatore finestra, l'ultimo giorno che passai nei suoi uffici, soddisfatto di avermi estorto insieme con i suoi degni soci delle false ammissioni grazie a ricatti, violenze, insulti e minacce, mi fece sedere vicino alla finestra aperta e, tenendosi a distanza lui e gli altri, mi provocavano apertamente, chiedendomi perché non mi buttassi lì sotto. Tutto ciò si ripete più volte, mettendo a dura prova i miei nervi già scossi dal trattamento subito. La cosa sarebbe stata estremamente facile ed anche volendolo, all'ultimo istante, non avrebbero potuto assolutamente impedirmelo. Versione terzi, seconda. Un momento, eh. Pronto. Vogliamo concludere questo nostro lavoro ricordandovi uno degli episodi che la storia del Movimento Operaio annovera. Pino Pinelli, cresciuto con il mito dell'anarchia rigeneratrice, della giustizia sociale e della libertà, senz'altro conosceva il dramma di un altro anarchico, Romeo Frezzi, arrestato nel 1897 come complice di un attentatore di Umberto I. Frezzi, vittima della psicosi e del complice a tutti i costi, era stato incarcerato. La questura, dopo contraddittori comunicati, dichiarò che l'uomo si era ucciso gettandosi da un ballatoio alto 6 metri. Ma la perizia, fatta per il coraggio morale di un medico, il dottor Pardo, accertò che l'uomo era stato ucciso. È stato per la polizia un incidente sul lavoro. Non ha voluto parlare, non avendo assolutamente nulla da dire, e gli agenti di pubblica sicurezza l'hanno massacrato di botte. L'anarchico Frezzi! Frezzi! Parla! 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 Gianarchici! 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 Lo abbiamo ammazzato. È stato un incidente sul lavoro. Si è suicidato. È vero. Si è suicidato. Si è suicidato! Si è suicidato! Si è suicidato! Si è suicidato! Pino Pinelli, l'ultimo di una lunga serie di anarchici suicidi.